La squadra è il 5-15, allora Che ci fanno un manichino? Dopodiché, ciao! Dunque entrano Gianna, Katia, Giovanna, Beatrice, Anna Maria e Emanuela E loro sono Ludovico, Pasquale, Fabio, Pietro, Massimo e Pierfancesco Questo, signore e signori, è il Tango Argentino! Grazie! 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 fotografo Luigi, i direttori artistici della Latin War doveranno e vi premieranno con la medaglia ricordo per la partecipazione a questo nostro esagio di fine anno. Vi ricordo Luigi, laboratorio arte visiva, lui è il fotografo ufficiale di questa serata, potete trovare, scegliere, prendere le foto che questa sera sta facendo Luigi a ognuno di noi e anche ai nostri gruppi da lunedì, i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì presso la nostra scuola Latin War, Accademia delle Tanze, via dell'ospedaletto 27, dalle 5 di pomeriggio in poi. Grazie di tutto, tanto argentino, tradizionale di Buenos Aires, lei è nativa, l'insegnante, siete stati fantastici, grazie. Show under 11, guerra e pace, le ragazze della danza squadra.